Questo qua è mouse, non è tanto mouse, perchè è minuscolo, ok? Ah, Nideth, Teranormal, Nideth, Teranormal, Lory Moon, Kiramulet, Super Conflicky Swipe, Arca, Citrus, Seat Wave Speciale, Gastro, Cover Clock per Garga, quindi lui porta sicuramente Gastro, lui porta... cioè lui porta Rory Moon, Lory Moon, Arcanine, Gastro dietro, e si porta a Nideth. Ok, ah, ce l'ho qua, sì. Ma cos'è Rory King Swipe? Rory King Swipe è mossa tra double target, 60 di potenza, che troppa l'attacco. Ok, no problem. Entrodotta in... in 7, mi pare. Sì, sì, sì. Ma che... bellissimo! Ma è bellissimo, è orribile! Gambit... Ma è bellissimo, è qualcosa di bruttissimo! Ma è bellissima sta cosa! Iron The Pants... Ok. Cioè, non hai visto l'interazione tra Part-In-Shot e Magic Bounce? Sì, però non ci avevo pensato che Magic Bounce potesse funzionare per cacciare via a Tarini. Ma che cazzo dici? Si è fatto per un botto di tempo, quando si giocava a G-Max a Tarini ovunque. Davvero? Sì, cioè, lo so io che non giocavo a VGC. No, io questa cosa non me la ricordavo proprio. Eh, comunque il look... ...smova. E... Ma pure in tutti i meta dove si potevano cambiare le abilità. Puoi tranquillamente... ...clivare Mousholt, credo. Intanto sarà foro... Sì, sì, sì. Allora, però usai Mousholt è ancora... Poi Maroring 1 non ti fa praticamente... ...non ti fa molto. Anche se ti tira Breaking Swipe, King Gamby va più due, quindi non gli conviene. Va più uno. Bene. Ah, lui l'ha messo. Ah, scusa, a Tarini non è letteralmente il counter di questi due messi vicini. Ma anche Brubon è. Brubon è dai. No. No. E... ...e... ...clocchiamo Mousholt. Tampolo non fa niente. Mi spero. Mi sto. Eh, ora... ...e, ora, boh, c'è Ballet Seed e con il Lorde Dice fa un botto di danno a chiunque. Eh, sì. Puoi fare pure Ballet Seed contro Castro. Gastro non è di una product, per cui può fare Ballet Seed contro Castro o Salticure contro Gastro. Sì, sono d'accordo. Ma non lo so. Eh, qui. Qui è l'albero da terra. Ti ho spiegato, è l'alzata, dice. Sì, è l'albero da terra e ancora Salticure. Gastro, come lo tiri giù? Uno lo tiri giù, secondo me. Oh, è lunga, sì. Qui puoi tirare... Dalin, dalin, dalin. Io ho Gargat da tirare cuore, in realtà. Cioè, Gargat è il po' con che ti tiene più o meno Mouse o the Rory, non no. Mmm. Ok. Buonè. Ma in Glim e metti Brubonne, ma sì. A Spirit Break, che è il Glim. Non lo tira quanto Gargat più due, lo tira quanto Attarini, semmai. Storin, Gialin, Stain. Eh, volivi, eh. Ti vuoi dovevo cacciare Attarini? No, troppo. Gliosissima. Allora, eh... Puoi tirare Dead Zing Lim e doppio attacco su Green Beach, a porco. Sto parlando di non... Perfetto. Oh, va bene. Ti fa il top sidekick. Io volevo farlo... Vabbè, da una stessa, da una stessa. Va bene abbastanza, sì, sì, va bene. Ora puoi tirare fuori Brubonne e tirando Dead Zing Lim così non... Non ho shot Mosul, secondo me. Così. Sì. Vediamo. Mettere il Graganaco. Oh, King Grit. Forse King Gambit ti serve full vita perché l'unico po' comunque alla fine veramente colpisce Gastro, quindi... Gargazzo, comunque... Non capisco come faccia a fare 40%, sinceramente. Un po' troppo effettivo. Questo invece comunque non va molto bene. Oh, raga, ma smettiamo di giocare e basta. Cioè, non siamo capaci, fine. Cioè, non è il problema, è il meta. Il problema è proprio Pokémon. Ha cagato il cazzo. E l'unico basta. Il Pokémon sia il problema, questo lo sapevamo da molte generazioni. Sì, cioè, no, il problema non è Pokémon in sé, ma il fatto che non stanno aggiungendo nuovi Pokémon e il nuovo raid è su Pikachu. Ma che cazzo me ne sbora a me di Pikachu vorrei sapere. Ma scusa, ma adesso Pikachu va a surf, cioè? Ma che cazzo me ne sbora a surf? Ma fai a non emozionarti per surfing Pikachu. Adesso penso a Pikachu mi metto a piangere. Io basta, devo... Non terastalizzare con nessuno, eh? No, no, no. Devi terastalizzare solo con King Gambit. E basta, terastalizzazza. Non si può. Perciò, io dovevo attacchiare. Mi sento. A rusto, questa notte. No, 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 no. No, 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 a rusto? No, non mi pare. Didi Crunch. No, ce l'ho, cazzo. Come a rusto, davvero? Cazzo. No, vabbè, non è un problema. Usa Rage Powder, così il rust viene redirettato su Brut Bonnet. Tira Crunch su Gastro di nuovo e proteggi. No, non Recover. Recover. Lui farà ruste. Invece no. Forse l'avversario non ha guardato il Team Sheet. E' il suo modo di cheat. Eh, ma non conosceva il Team. Adesso puoi terastalizzare Fata. Like se hai colto la cheat. E' quello che mi pare al Gastro, più rocce su. E'... Foto. La cheat l'hai colta? Io sì, e tu? Tira Fata ok. Io lo credo. Devi fare Tera Fata in modo tale che Grimsner possa usare Parting Shots in Gambit con Prankster e ti dia il doppio dell'attacco. Quattro. Vedi, uno che finalmente va a giocare ai VGC. Qui, triplo. Devi anche premere, devi anche muoverti. Ma da quando si perde per inattività su... Dove stai? Da quando? VGC. Ma perché non è premuto? Poi, non più troppo sento la seconda. Cioè, di solito... Ma c'è lì, nel rosso... Ti dà un più tempo, no? Ma è rosso a schermo, lo vedi? E poi non è giusto, perché è così. Cioè, non è giusto. Faccio vedere... Il tempo passa, ma Pokémon continua a... Cioè, problemi. Vuoi vedere un timbili sì bello? Sì. Io lo... Dovrebbe essere diverso. Dovrebbe fare una mossa a casa? Con la prima, comunque, non lo... Allora... Io ho bisogno di un Pokémon che entra in campo e ammazza tutto. Sempre. Senza mai eccezioni. Boh, da questo team non me lo ricordo assolutamente, ma mi sembra carino. Basta, è ora di giocare a Stigweb, perché io non l'ho mai giocato. Beh, non era carino perché era buono. Ok, un secondo. Come si usa maschere in Stigweb? Ah, sì. Hanno aggiunto, no? I paradossi, no? Che sono forti. Hai visto? Un timbili fu il paradossi, deve funzionare. Fu il paradossi più il Golding. Ah, è un timbili fu il tuo spazio. No, ci sta flattermane. E io ero un bando. Ma era... Un timbili. Un timbili. Un timbili. Come si usa Mascherine? Sticky Wells? Si anzi. Cold Gingo, Ring Moon. Ah, figo Iron Bumble. Non so cosa colpisce, ma figo. Future Manet e Iron Bumble. Impostile Verde. Molto bene. Ma perché uno dovrebbe giocare a Hydro Pump? Cosa propisci? Che vuole? Su Mascherine. Che cazzo dici? Ma poi perché Modest? No, Modest no. Poi perché Arik andiamo al Gearslash, tanto non è che debba fare danni Mascherine. Bene, e ora? Boh, se Rimuno un colpo lo dovrebbe tenere, credo. Dimmi Palafine. Allora spero ovviamente. Puoi poter tirare Acro e shottare Palafine e basta. Cioè Acro o Terra Acro. Bene. Ah, hai idea. La Terra no, comunque non faceva 100. Ho fatto zero? Com'è possibile che abbia fatto zero? Questa la Fisteth fa solo. Comunque Watch. Pretezione achievement. Non c'è. Bene, noi dopo lo teniamo, ha deciso. Ti dovrei apeli. No? Lo proteggo. Ok. Allora. 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 Non ho scelto male. E non fa dubbio perché non ho scelto di forma. Beh. È stato predittato. Esercizio 81. Dimostriamo che il pullback è un omorfismo di algebra che mostrando che preserva solo i prodotti. Cosa? No, no, no. Perché continui a proteggere sempre il Pokémon sbagliato? Perché prezziare... C'hai Spex? Ma perché? Cioè io non... Perché prezziare c'hai Spex? Scusa. Eh? Perché la Spex con protezione? Perché così se te la coffrono, te la triccano, tu hai comunque la Spex... La Protect. Poi tagliare la Sesh, ma... Vabbè. La Sesh ha già un altro Pokémon, mi pare. Non ho un pro, certo vero. Guarda il Pokémon prima di cliccare le mosse a casa. Ma che scusa? Se è sezione, pensavo... Ok, non è choice. E pure i Team Sheets erano aperti. No, falso. L'hanno chiuso. No, non ho detto basta. No, non ho detto basta. Sof, ti fai di fare una cosa? No, aspetta. Che cosa? No, aspetta. Che cosa? No, aspetta. Mando un link e tu devi aprirlo. No, mi fa schifo sti web, non lo voglio giocare. Voglio giocare solamente Band Bugs Calibur. E qual è la tua generazione preferita? La terza. Eh sì, ma scelta, ma va bene. Un no. Allora, soft. Ah, questa partita ti interessa giocarla di VGC? Beh, ormai finisce l'ho iniziata e perdiamo i tempi brevi e... Ok, bravissimo. Tu devi aprire questo link... No. Questo link che ti ho inviato e condividere lo schermo. E sarà fatto da poco. Bene stesso. F star di F più F star di G è uguale a F composto F grande più G composto F grande. Ma la composizione è associativa. Eh beh. Se ne? no raga basta il mio cervello non ce la fa buildare io non voglio buildare più ho detto basta voi sono da fare con te ho smesso di buildare anche perchè ci ha finito bramble gas nel mio team quindi via cioè basta e basta con sto gioco mouseworld si usa veloce o lento lo so magari trappure di ancora ho capito cosa hai detto il mouseworld è veloce o lento cioè full speed deve superare a nire perchè deve tirare evitare a nire per boostargli cosa no no e perchè è capitato ah ok ho capito perchè ma cos'è io non ho mai capito il motivo per cui è giocato a tsukiri giallo per la speed e chi dice per la speed su dodo c'è tanto dunque c'è ma se non le animazioni che stanno mettendo su scello la parte che fanno cagare ma perchè non mettono i modelli 3d di merda che cazzo me ne faccio nello spray di annilepe di mouseworld eeeh la modelli 3d di merda il design senza intenzione perchè hai fatto zero danni a anni e li hai praticamente boostato io voglio sapere perchè don dozo ha lo spray 3d e gli altri no don dozo non figo innanzitutto c'è cazzo c'entra intenzione e lo spray 3d e gli altri no l'altro basta ecco hai fatto ace quindi no assolutamente no che cosi attivavi thepyant Eh, così ti mandava la Sash più velocemente. E... beh, che dire, provare a riproteggere con Golding. Basta, 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 raga, basta. Io non ci gioco. Adesso è quando un beta meeting fuori Italia. Che schifo, il fuori dell'Italia. L'ho cercato, però non era il miglior. Perché non ti eri Icy Wind? Settamente non perciò il biglietto. Beh, Tatsugiri è ancora dentro alla pancia di Don Doze, evidentemente. Dovevo dare speranze. Tatsugiri ha voi di d'attacco. Boh, cioè, Icy Wind, make it rain. Beh, no. Evidentemente no. Eh, per buono, per buono. Beh, bello questo gioco, bello. Apri il link che ti hai inviato. Apri il culo. E con i video lo fermo. E con i video lo fermo. Facci vedere i culi. Ok.